Tornerà in Corte d'Assise d'Appello, ma questa volta a Perugia il processo per l'omicidio dell'Ultra del Pescara Domenico Rigante. I giudici umbri dovranno rideterminare la pena dopo che la Cassazione, ieri sera, ha confermato l'accusa di omicidio volontario a carico di Massimo Ciarelli, annullando però l'aggravante della premeditazione che era valsa a Rom pescarese la condanna a 30 anni di reclusione. I giudici della Suprema Corte hanno invece confermato integralmente le condanne per omicidio volontario emesse in secondo grado a carico dei quattro complici, 16 anni per Luigi Ciarelli e 13 anni per Domenico, Angelo e Antonio Ciarelli. I quattro, in primo grado, erano stati condannati sempre per omicidio volontario, ma a 19 anni e quattro mesi. Il procuratore generale in Cassazione, durante la sua requisitoria, aveva chiesto per tutti gli imputati la conferma della sentenza emessa dai giudici di secondo grado di L'Aquila, i legali di Massimo Ciarelli, gli avvocati Franco Metta e Giancarlo De Marco invece hanno contestato la premeditazione e puntato sull'omicidio preterintenzionale, oltre che sull'attenuante della provocazione per l'aggressione subita da Ciarelli il giorno prima dell'omicidio. Domenico Rigante, 24 anni tifoso nei gruppi ultra del Pescara, è stato ucciso a seguito di un raid punitivo in un appartamento di via Luigi Polacchi, zona Porta Nuova, la sera del 1 maggio del 2012, con un colpo di pistola che lo ha raggiunto a breve distanza al fianco. La pena per Massimo Ciarelli, 29 anni, che dopo l'omicidio si rese irreperibile e che fu arrestato dalla mobile di Pescara il 5 maggio, consegnatosi in un autogrill nei pressi di Francavilla, è destinata a subire una riduzione e certamente non sarà superiore ai 18 anni di carcere, considerato che l'imputato ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato che prevede uno sconto della pena. La famiglia Rigante si è detta comunque soddisfatta dell'esito del processo perché è stata riconosciuta la volontarietà dell'omicidio e fatta giustizia al di là della quantificazione della pena.